A Teramo, a livello sanitario, si pensa già all'autunno. È molto probabile che torni il Covid-19, ma sicuramente tornerà l'influenza. E poi ci si troverà a fronteggiare sintomi simili tra la popolazione e a doverli accertare nel minor tempo possibile. E così l'Asla di Teramo predispone e presenta l'UCAT, l'Unità di Coordinamento dell'Assistenza Territoriale, una macchina da guerra che avrà lo scopo di individuare precocemente i malati di coronavirus e prenderli in carico direttamente al loro domicilio. Una soluzione che eviterà accessi inutili alle strutture ospedaliere. Siamo convinti che la battaglia andava spostata sul territorio. Bisognava creare un coordinamento forte che dovesse gestire e raccordare la prevenzione, l'ospedale, il 118, i medici di base, i medici pediatri, l'USCA, tutte queste strutture, l'ADI, perché è fondamentale che questo coordinamento è fondamentale per la gestione del paziente a domicilio, perché dobbiamo evitare il più possibile che gli ospedali vengano intasati, soprattutto quando le cure consentono al paziente di stare a casa. Alla presentazione del UCAT a Teramo è intervenuto il direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Claudio Damario, che ha annunciato una stretta sorveglianza anti-Covid, soprattutto per le case di riposo. La gestione del Covid all'interno delle case di riposo dell'Abruzzo è andata molto bene. È stata una fortuna o è stata una buona prevenzione? Il monitoraggio delle case di riposo non è stato un colpo di fortuna, è stato il risultato di una buona organizzazione territoriale. Ma io dico che bisogna fare ancora meglio. Adesso dalla fase di emergenza dobbiamo passare alla fase della programmazione, ma alla fase della vera prevenzione. Per quello l'assessore ha deciso proprio ieri e adesso partiremo con un progetto obiettivo di allargamento preventivo dei tamponi a tutte le strutture residenziali per anziani. Non solo per i pazienti, ma anche per gli operatori. A questa attività di prevenzione corrisponderà, nell'ambito della nuova campagna anti-influenzale, anche una vaccinazione preventiva di questi pazienti ospitati nelle case di riposo. Anche l'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, ha voluto dare la sua benedizione al Lucat di Teramo ed ha confermato la disponibilità immediata degli 80 milioni di euro per il nuovo ospedale Teramano. Ci sono i fondi, il Presidente ha appena firmato la convenzione. Penso che quanto è posta una firma sia un elemento fondamentale per iniziare l'iter in maniera fattiva e concreta. E sulla nomina dei nuovi manager? È appena uscito l'elenco, penso che in settimana, nei prossimi giorni, avremo i nominativi.